Lioness è stata fondata nel 2003. Dopo circa 10 anni l'impresa è già attiva in più di 40 nazioni ed ha milioni di clienti registrati. Ogni giorno si aggiungono migliaia di nuovi clienti. Nei prossimi anni potrete usare la cashback card in tutta Europa. Anche in Nord e Sud America, nel vicino Oriente, in Africa e sulla costa pacifica dell'Asia, Lioness è già partita. Lioness è così la comunità d'acquisto con più successo nel mondo. L'idea mi è venuta molti anni fa, un venerdì pomeriggio, quando mi trovavo alla cassa di un negozio di mobili e chiedevo alla gentile cassiera se potevo avere più sconti. Lei mi rispose, certo che può ricevere più sconti, si acquista di più. Quindi ho chiesto, posso acquistare anche insieme ai miei amici o parenti? E lei ha risposto, perché no? Si tratterebbe allora di un acquisto collettivo o di gruppo. Può andare. E da allora è nata questa semplice idea. Oggi siamo la più grande comunità d'acquisto del mondo e questo ha un semplice motivo. Il fatto che la carta, la registrazione e tutti i servizi sono completamente gratuiti. E poi è ovvio che ognuno vorrebbe ricevere il ritorno di denaro ad ogni acquisto. Lioness offre servizi di alta qualità. Per questo ha ottenuto la certificazione ISO e i QNET. Il parere è proveritate dello studio legale SUTTI di Milano, attestante la conformità alle normative vigenti ed ha anche ricevuto la certificazione Studio Consult relativa alla legge 173 del 2005. In più non traete vantaggio soltanto voi. Con ogni acquisto fate del bene, in quanto una parte del fatturato di tutti gli acquisti effettuati con Lioness vanno automaticamente alle Foundation Lioness. La Child and Family Foundation ha già finanziato e seguito dozzine di progetti in numerose nazioni. Un progetto scolastico comunitario in collaborazione con Nelson Mandela in Sudafrica, per esempio, oppure la ristrutturazione di una scuola nelle Filippine per più di 400 bambini. Molti altri progetti si stanno già realizzando. Rain Infinity, la seconda Foundation Lioness, si occupa di un tema che riguarda tutti noi, la tutela del clima e dell'ambiente, progetti importanti per il mondo di domani. Come clienti Lioness, proprio voi rendete possibile tutto questo, attraverso i vostri acquisti. fare del bene insieme e risparmiare denaro contante. Lioness ha già in tutto il mondo decine di migliaia di imprese convenzionate. Potete già usare la carta Lioness in 150.000 punti vendita ed aumentano ogni giorno.